Vado a presentare questi altri splendidi ragazzi, siete pronti? Anche loro hanno un ragazzo che per motivi di studio è fuori, è vero? Però viene benissimo vincariato, completato, perché a me non piace dire altro, viene sicuramente a essere unito in questa formazione e sono contentissimo di avere qua questi splendidi ragazzi. Peraltro devo dire da ormai da anni, posso dirlo, perché abbiamo iniziato a rischio scientifico insieme, hanno riempito la loro bacheca di premi e vado a presentarli. Antonio Liso In forma smagliante, Enrico Di Noia Lì e papà stiamo un po' poveri Assomiglia tantissimo, eh Dodi, assomiglia tanto al film che non ho ancora visto Però è stupendo, è bravo, speriamo che abbia la stessa fortuna Ed è Michele, Michele Montaruni, alla batteria Grande Primo interpares, ma nello stesso tempo dotato di una voce spettacolare Ed è Claudio De Vita, chitarra, voce armonica anche stasera Loro sono i Nuggets, vale ciò che ho detto prima, è massimo ascolto e massima partecipazione da parte vostra Grazie 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 Non servo fine e testa, senza storia, senza età, ero un sogno O meno è solito, riflessi sulle con il giro di amore Come le stelle, noi, avvolti dalle ombre, noi ci amiamo Non c'è tempo di fermare, questa corsa senza fine, che ci sta portando via E il vento spegnerà, il fuoco che si accende, quando sono te Quando tu sei che noi siamo fine e testa, qui ti temblarò perché si gira intorno Non siamo fine e testa, senza storia, senza età, ero un sogno Oh! 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 Grazie a tutti.